Lo schianto terribile è avvenuto poco dopo l'una di questa notte e di un morto e di un ferito non grave il bilancio dello scontro frontale tra due tir avvenuto sull'autostrada A14 tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud. A perdere la vita è stato un autotrasportatore di Mola di Bari, Antonio Gentile, rimasto incastrato tra le lamiere, che viaggiava in direzione nord con il suo carico di frutta e verdura. Sul suo mezzo pesante è piombato il rimorchio del tir guidato da un cittadino bulgaro ricoverato nell'ospedale Sampio da Pietrelcina di Vasto, che è sbandato, ha distrutto la barriera centrale e poi ha invaso la carreggiata opposta. L'uomo si sarebbe salvato perché la motrice si sarebbe girata lasciando in mezzo alla carreggiata solo il rimorchio contro il quale è finito senza scampo il mezzo che proveniva nel senso opposto di marcia. I due autotreni sono andati completamente distrutti, con i rottami e la merce trasportata dispersi ovunque sull'asfalto. Sul luogo dell'incidente, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e gli operatori della società autostrade. L'autostrada 14 è rimasta chiusa fino a mattina inoltrata in entrambe le direzioni di marcia, con uscita obbligatoria tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud. Chiusura resasi necessaria per la difficoltà dell'intervento, che ha causato rallentamenti sulle arterie viarie secondarie. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale del distaccamento di Vasto Sud, tra le ipotesi dell'incidente lo scoppio di una gomma del camion che ha invaso la corsia opposta.